Musica Ciao ragazzi, sono il fisiotero e benvenuti in un video Oggi siamo nell'ultima parte della parkour paradise 2 Finiremo assieme questa mappa infernale Inziando dal livello 76 Che dovevamo andare dentro una piramide Dove ci sono un botto di tesori Allora, da quel che mi ricordo Lì ci dovrebbe essere un cavolo di scheletro Che mi butta giù Letteralmente Lo vedete da qua? Eh sì, si può vedere Guardatelo lì Guardate quell'infame che vuole Che non aspetta altro che buttarmi giù Ok, grande Ok Ormai ho trovato un modo per contrastarlo Vabbè Che poi tutto sto ambarato nella piramide Per stare solo quassù Che tipo, se cado così devo rifare tutto quello che avete visto da capo Ma noi non lo faremo Perché io voglio finire questo inferno Cioè che Cioè che la sto rifacendo una seconda volta Soltanto per farlo vedere a voi Se no Non avrei fatto nulla Ok, livello Vabbè, livello 77 E Ok, qua sotto i letti E la madonna che sta roba Io sto vedendo cose Allora Ho visto anche Che oggi andremo Andremo Alla scoperta dei pianeti del sistema solare Perché c'è una parte dove Dove devi tipo fluttuare su dei pianeti E E faremo anche un bel percorso con le litre Intanto perché sono caduto Non lo so nemmeno io Allora Sono ritornato qua E penso Che stavolta si debba Ah, ok Dovevo fare così Ok Ah, ok Livello 78 Comunque prima ho stoppato la registrazione Perché Pensavo che non ce l'avevo Però vabbè In realtà ce l'ho Adesso sono totalmente convinto Che sto registrando il mio schermo Fortunatamente Allora Livello 78 Fatto Livello 79 Non sto avendo troppe complicazioni Perché vi ricordo Vi ricordo già che questa mappa L'avevo già fatta ieri Ieri nel senso che Perché sto registrando tutte e quattro Le parti del Del parkour nello stesso giorno Infatti Mi sta Prendendo anche un bel po' di tempo Nel registrarlo Ho iniziato Ho iniziato a registrare le 2.10 In questo momento adesso sono le Le qui Le 14.10 In questo momento sono le 15 Cioè ci sto mettendo già quasi un'ora Per Completare la mappa Cioè per esempio ho avuto il rank C Completandola in un'ora e mezza Mi immagino in un'ora Presumo Che possa avere il rank B Perché vi dico Questa mappa Almeno mezz'ora ve la spendete Per completarla Ve lo dico Forse anche di più O mezz'ora o un'ora Dipende da quanto siete skillati voi Mezz'ora, un'ora, un'ora e mezza Anche due Ok Stai adesso ok Perfetto Stavamo sul minecart E arriviamo qua Che poi Che poi se non lo sapete Nella 1.16 Hanno risolto il bug dei cactus Solitamente C'era Quando Sui cactus C'era Quando ci mettevi i tappeti sopra Non Non ti faceva danno Adesso anche se ci li metti sopra Ci fanno danno comunque E quindi è per questo Che non li mettono più nessuno Perché alla fine Non servono a nulla ormai I tappeti sopra i cactus Perché non ti proteggono dal danno Quindi Livello 82 Ok Dai che ci siamo vicini a completare Stamma Io mi ricordo Il livello dopo Molto probabilmente sarà la cosa Una delle robe più difficili Che voi avrete mai visto Ma che io sono riuscito a fare O almeno ieri sono riuscito a fare io Con Con stress totale E ansia Perché devo anche andare a mangiare Tra un po' Dopo un po' di tempo Stress totale Ansia Battiti cardiaci al massimo Cioè Era un'atmosfera giusta Di rischiare l'infarto Letteralmente Ok Allora vi dico Io in questi giorni Sto pensando anche Di portare tipo una Top 5 Livelli di geometri dash Se volete tipo Che porti tipo Top 5 livelli Top 5 livelli più epilettici Top 5 livelli più difficili Top 5 livelli Top 5 Top 5 demoni più facili Top 5 Come che si Top 5 qualcosa del genere Lasciate un mi piace Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale E scrivetemi in un commentino Se questa cosa L'ho detto pure o no Ecco adesso siamo arrivati Al punto fatidico Perché qua ci sono blocchi Che compaiono e scompaiono Ok Quindi deve avere Un timing Ultra preciso Per fare questa parte Te Ma che io so Ecco ok Allora Dai non mi devo rifare Tutto quanto da capo Allora ce l'ho fatta Ok adesso salto Non lo fai eh Ok Ok livello 84 Questo qua con le librerie Ok 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 E perfetto Così Poi Slime E si arriva qua Ci sto arrivando Con molta più calma Rispetto a quanto ne avevo ieri Ieri di calma C'era veramente agitatissimo Quando stavo facendo la mappa Ok Livello 85 Dai che ce la stiamo facendo Anche se abbiamo fatto Soltanto 10 livelli In questo episodio Ce ne mancano 15 E la mappa sarà finita Tipo qua adesso Ah si vero Devo fare Una roba del genere Aspettate Ah no perché ci so Ah Adesso Adesso ho capito Quindi devo fare Così Ok Perfetto Ok Perfetto Soltiamo Dicevo saltiamo Sopra i muretti Ok Un pochettino Voglio fare la parte Delle end road Ok No Ok Sono ritornato qua E perfetto Livello 86 Allora Si stanno già iniziando A sudare le mani E questa cosa Non va bene Non va assolutamente bene Quindi Cerchiamo di finire la mappa Il prima possibile Perché se no Perché se no Si finisce male Vabbè Livello 87 Livello 87 Allora Ok Poi Prossima Destinazione qua Poi di qua Poi di qua Poi di qua E poi di qua Via Eh no No di là non ci sta Non ci sta Livello 88 Ma l'86 Quindi non voglio Ritornare indietro Ok adesso devo Prendere una bella Link Corsona Ok Livello 88 Qua letteralmente Chi soffre di epilessia Non guardi questa parte Perché è piena di colori C'è un tunnel Aracobalenoso Totalmente Ok Chi è epilettico Chi è epilettico Schip Chi è epilettico Mi ascolti un attimo Allora Livello 88 Che è veramente Anche molto Anche abbastanza difficile Ok Livello No Non siamo ancora Livello 89 Purtroppo Ok Perfetto Prendi lo slime così E siamo arrivati A livello 89 Che qua Dei fare Un bel parkour Sulle ninfè Iniziamo da qua sotto Perché Non puoi fare altro Ok Qua tra l'altro Sono sostenute Da blocchi invisibili Tra l'altro Ok Ok Perfetto 1 2 3 4 E 5 Perfetto E livello 90 Allora Siamo vicini All'ultimi 10 Che 90 E Sa Perché Siamo 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 molto vicini E porca miseria Devo rifarmi tutto quanto da capo Ah Non devo far così Devo far così Ok Intanto sto continuando a parkour Anche se stavo andando a fuoco Ok Ok Poi di qua Di qua E di qua 1 E 2 Ok 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 Sto ritornato qua Perfetto Livello 91 Questo qua Del castello Oh che bel castello Marco Condire un dirondello Ok Livello Ok No che dico livello Perché dico sempre lì Cioè ormai mi viene la fregola di dire sempre livello Non so perché Sì però Anch'io non apro le botole però Ok Adesso Verso i pianeti del sistema solare Via Andiamo Ok ecco perfetto Ci siamo Ci ho anche Caduta lenta Allora Adesso Cerchiamo di andare Allora Ci arrivo a venere Non ci arrivo a venere Perfetto Iniziamo male Allora Siamo solterrati sulla luna Quello è l'accessore Quello è la terra Questo qua dovrebbe essere venere E quello dopo venere Dovrebbe essere mercurio Ok Ok Perfetto No 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 Adesso li faccio fare tutto quanto dalla luna Allora Via Andiamo verso venere Ok adesso Un altro bel saltone E facciamo E arriviamo su mercurio Adesso Un bel saltone E arriviamo su 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 phobos Adesso arriviamo qua E arriviamo su ganimede Tra l'altro c'è anche un bel po' di minerali È un pianeta molto ricco Ok Adesso Andiamo dentro la terra Piena d'acqua letteralmente Ok Nuotiamo dentro la terra Ok No devo andare Andare verso Verso Maki Maki Di qua E poi E poi su questo pianeta Che non so No All'ultimo All'ultimo Sono caduto All'ultimo Ok Sono ritornato qua su Maki Maki Adesso Ce l'ho fatta Livello 92 Ok Ci sta che non devo far così Sapete Ci sta che non devo far così Sì però anch'io Che non Non prendo i blocchi Ma posso ritornare dal portale Nei pianeti Ok In realtà dovevo veramente far così Semplicemente ho saltato Dalla parte sbagliata Ok Adesso siamo sulla coltivazione di carote Adesso Uno Due Ok Livello 93 Bene C'è acqua nell'end Perfetto Abbiamo capito che Nell'end c'è l'acqua Vabbè Scherzi a parte Scherzi a parte Continuiamo Ok Ok A parte che un chischio Ho aperto le porte Così vabbè Lascio usare Ok Livello 94 Aspetta un attimo Ma sto sopra Livello 93 In realtà non è che Aspetta No Ok Livello 95 Allora Se cado Dal livello 96 Se cado di qua Dovrò Devo rifarmi tutto quanto Anche da qua Quindi Nel livello 96 Devo cercare di non cadere Devo cercare Devo impegnarmi A non cadere Nel livello 96 Ok Non devo andare di là Ma devo andare Di qua Ok Adesso slime E si arriva qua Ecco In questo livello qua Con le spumi Madonna Ancora me la ricordo Quella parte lì Che veramente È Molto breve È una delle parti Che odio di più in assoluto Di questo livello Perché devi prendere Il timing giusto Per Il timing giusto Perché quando lo slime Non è volto dall'acqua Per Per arrivare qua E poi E poi non devi neanche cadere Nel livello 97 Vabbè Ci metterò una vita Sicuro Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Non so neanche come Ok Allora livello 97 Non dobbiamo cadere Oppure dobbiamo Dovremo iniziare dal 95 E non voglio assolutamente Iniziare dal 95 Ok Livello 98 Perfetto Qua finalmente C'è un checkpoint Con le scale Quindi Posso anche stare tranquillo Ok Arriviamo di qua E arriviamo qua Livello 99 Dai che Dai che siamo vicini alla vetta Siamo veramente vicini alla vetta Dove si deve andare Ah di qua Ok Allora Siamo veramente vicini A Finire la mappa Ok Che poi in realtà Questa mappa Non ha 100 livelli Ne ha 101 Perché Si include anche il La corsa con l'elitra Perché c'è anche una parte Perché prima di finire la mappa C'è anche una parte Che devi fare con l'elitra Ho dovuto sistemarmi un attimo Le cuffie Perché c'è qualche Fassi dall'orecchio No Non mi cadere da quest'albero Ok Grande Ok Benissimo Ok Livello 100 Questo qua sarà il palazzo Che dovremmo Scalare un palazzo altissimo Ok Ok Perfetto Le cose che mi fanno più Spaventare Sono le piattaforme all'esterno Perché vanno anche a livello 99 E di conseguenza Non me lo voglio rifare Ecco Ok Ci ho fatto Ok Non cadere dalle piattaforme Filtrator Non cadere dalle Piattaforme Ok Perfetto Se sentite Se sentite qualche rumore strano Penso io che mi sto Che sto tryhardando col controller Ok Ok Se sono il palcatore così Arriviamo di qua E poi di qua Poi qua Perfetto Sembra di scalare La Tipo la torre Che c'è nella parkour Pera dai su No a livello 96 Sembra questo Ok Di porte non devo aprire nulla Ok Perfetto Ok C'è sono arrivato Perfetto Ok 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 No Non è ok Ok Sono tornato qua E perfetto Ho fatto il salto Bene adesso Dentro Dentro un palazzo C'è un albero C'è roba del tutto Roba del tutto normale No Dopotutto Roba del tutto normale Dopotutto Ok No Rincorso Ok Ok Altre piattaforme Mezzaria Quanto le odio Ok Ok Perfetto Ok Allora Siamo arrivati alla fine Dobbiamo Dobbiamo Fare Ok Dobbiamo fare questa parte con l'elitra Abbiamo finito la mappa Molto probabilmente ci metterò un pochettino Ok 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 Dai che ce la faccio Dai che ce la faccio Sì Finita la mappa Che sollievo E ragazzi io spero che questa serie vi sia piaciuta Fatemi sapere se volete anche la parkour pyramid Lasciate un mi piace Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina e la infiltrator E la parkour per adesso qua dietro E' tutto Ciao ragazzi Ciao